Fu anche scannato. Da Diomede Marinelli, giornali MS, nella Biblioteca Nazionale di Napoli, volume primo, pagina 453, si legge. Cento anni sono passati. Si era al novembre del 1799 e al carnefice non si dava ancora riposo. Agli undici di questo mese, di lunedì, nel solito luogo del mercato, scrive un cronista del tempo, è stato afforcato l'uomo dotto e bibliotecario di Pasquale Baffi. E aggiunge un orribile particolare, cioè che nel buttarlo giù il carnefice si è sciolto ed è stato afforcato la seconda volta. Il fatto del non essere morto alla prima sotto il supplizio e dell'essere stato finito in un modo qualunque dal carnefice, per quanto faccia raccapricciare, fu purtroppo vero. In un vecchio manoscritto che è stato dato in questi giorni alle stampe, si legge, fu anche scannato, per essere stato cattivamente afforcato. Commento. Tutto questo accadeva per legge poco più di due secoli fa. Ci si può meravigliare di come l'evoluzione collettiva di quel tempo fosse ancora strutturata in queste basse vibrazioni. Ma ci si meraviglia molto di meno se si pensa che già il nostro corpo fisico, che è un'emanazione della coscienza individuale, sia ancora strutturato in materia molto, molto densa, come quella degli animali dai quali proveniamo da poche incarnazioni.